buona sera a tutti e bentornati in questo nuovo episodio finale e in questo nuovo episodio di minecraft in lono per essere precisi mi pare che non siamo un po' infortunata sono stato assente da parecchi video perchè ho avuto un paio di prime salute ancora esistenti e quindi siamo messi così nel frattempo comunque sono riuscito ad andare avanti ho esplorato poco 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 e ho trovato una zona ottima adesso vi facciamo vedere cosa succederà cosa succederà cosa ho trovato cosa faccio e cosa ho fatto non ho visto niente esatto è una sorpresa sicuramente dovremo un bel po' di sacchi di terra questo è proprio sicuro ti serve un sacco di terra? no sicuro? no 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 allora quindi andiamo a vedere subito allora papapapa anche sono anche curioso quindi ok siamo partiti allora intanto ci troviamo sul mob spawner che ho quasi finito finalmente poi l'ultima volta dove ci eravamo lasciati l'ultima volta ci eravamo lasciati nel nether che eravamo appena stati nel nether la come vedete c'è un portale ma ce n'è uno anche da dentro perchè io voglio provare a fare la trasportazione e trasfigurazione dei portali ma non ci sono ancora riuscito il portale lì dove porta? allo stesso portale di quell'altro ah infatti devo uscire intanto qua prendiamo i ferri ho trovato quattro diamanti hai noto che non ti è ancora un piccone di ferro? li ho usati tutti appena adesso qui abbiamo la nostra bella piccola gem ciao piccola poi un'altra roba che ho fatto sto facendo un piccone di ferro sto facendo la ferrovia vediamo e poi sto facendo la ferrovia e la miniera papapà allora qui ho trovato il modo di utilizzare questi che non prendono il fuoco la casa per adesso per farlo spartitraffico qui si va all'ingresso della miniera e qua si va all'ingresso della stazione ferroviaria dove ognuno ci sarà una pensionina con tutti come si vede lì ho già creato il binario che porta la barchetta per andare a pescare e su quel binario lì cosa c'è? poi abbiamo alcuni binari porteranno altrove qua quando andrò quando andrò farò vari binari tutti i binari collegati ma quello lì non è collegato a noi? non ancora devo ancora provvedere questo lo sto portando infatti vediamo se ho del vetro si esatto perchè volevo guardate che figata è venuto è venuto una figata sto adesso col vetro chiudendo ho finito la resta ho finito tutto praticamente sto mettendo del vetro facendo un cunicolo di vetro attorno alla montagnetta che l'ultima volta ci ho quasi rimesso a pelle perchè gli scheletri di notte se ne fregano che tu stia in alto e anche gli zombie in quanto la montagnetta è vicino alla terra il cavallo non mi ricordo più dove l'ho lasciato ah è un cavallo? si ho preso un cavallo devo ancora trovare la targhetta e nominarlo eccolo qua appunto come vedete qua è c'è ancora uno scheletro aiuta! guarda? là in fondo l'ho visto io vedo la roba ancora prima che vengano là lo vedi? che poi non so che ah perchè è sotto la tettoia beh proveremo uno scontro frontale dopo comunque non brucia? scheletro no se sotto il binario no vedi che è da sotto il binario quindi non brucia infame comunque stavo facendo beh facci vedere questa montagna qua cos'è? allora praticamente intanto qua andrò a chiudere tutto col vetro sarà per evitare che i mob mi massacrino durante la notte e sarà veramente una figata solo che non so quanto occupa il vagone adesso mi tocca farlo di tre poi ho perso lo scheletro di vista speriamo che sia morto spero con tanto amore comunque scendiamo da qua per adesso è meglio avere il cavallo ci prepariamo la spada che non ci so mai là si vede già la montagna è il muro vediamo questo è solo il muro interno poi dovrò fare il muro esterno con i binari che arriveranno qua farò i binari che arriveranno qua da qualche parte non lo so neanche dove qua sto cercando di fare una torretta tipo di avvestamento ho trovato questa qua la userò come per fare le scale poi ho trovato qua sopra un'immensa miniera intanto mentre saliamo mangiamo ok ho trovato veramente un'immensa miniera di carbone che neanche voi potete immaginare quanto carbone ho trovato eh quanto carbone guardate e ne ho preso tanto allora qua c'era tutto qua c'era tutto carbone lì c'è carbone là c'è carbone sotto c'è carbone da qualche altra parte c'è carbone là c'è carbone là sopra ci deve essere carbone ancora quindi da qualche parte ci sarà si anche quelle poi questo sto pensando di fare là c'è carbone e sto pensando di fare una torre ma dov'è casa tu? eccola là questo spiazzo che vedete una volta era una montagna come questa sorry e come si vede quella c'è ancora molta montagna da tirar giù quindi troviamo il modo di fare la discesa sono salvo, sono salvo e sono vivo il cavallo non è qua e quindi sono morto allora qua è solo morto si esatto guardate che figata che ha il portone è venuta una figata eh va 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 con le prese d'aria ho fatto anche le prese d'aria è tutta una presa d'aria di cosa serve? adesso devo ancora chiudere devo portare tutto questo muro a quell'altezza la e chiudere poi ho fatto la zona libri dove trasporterò ahia i libri degli incantesimi che sarà questo guardate che figata è una grotta chiusa naturale dove andrò a mettere dove ci sono tutti i buchi possibili metterò tutte le librerie e farò al centro qua da qualche parte devo ancora trovare un posto, un altare dove andrò a mettere il libro degli incantesimi e tutte quelle robe lì guardate quanto cazzo siamo in alto se riesco a salire al massimo questo è il massimo che riusciamo a salire guardate quanto cazzo siamo in alto infatti qua pensavo di chiudere con una vetrata perché è una figata letteralmente cazzo c'è proprio la luna giusta esatto e pensate quanto cazzo ho scavato tenendo conto che per fare per fare questi mattoni qua servono servono cos'erano? ecco il po' quattro blocchi di roccia che devono che è la pietra che deve essere cotta quindi tenendo conto di quanto ne ho fatti beh ci ho guadagnato parecchie rocce vedete chiudiamo che non voglio che entri in ospiti sgrediti nei cotti boh non lo so c'è la farmacia lì? si cosa c'è dentro la cassa? tarra se non sbaglio non ricordo se non sbaglio c'è tarra no strano vieni tre uh che strano beh tarra molta l'ho portata di là infatti tarra 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 uh c'è farro 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 uh c'è farro io pensavo che hai trovato spianando la montagna si qua spianerò tutto anche qua devo spianare devo arrivare fino alla parete là in fondo adesso vi faccio vedere fin dove è la pala per spianare no le mani le mani oh man tutto a mano tutto a mano sto progettando qua se non si collega l'altro di piazzare un terzo portale del nether qua da qualche parte oppure pensavo di aspettare di un live sopra è figo sopra in cima alla montagna eh lo so pensavo di spostare uno dei due portali del nether e spostarlo qua e poi da cosa sei oltre la montagna? oltre la montagna c'è l'ignoto una foresta di betulle che mi sei ah ok pensavo di aver visto una costruzione in realtà non ho visto niente avete visto come se come si vede la spada di diamante ormai è quasi eslaurita quindi beh io pensavo andiamo avanti con l'esplorazione si dai pensavo vediamo cosa c'è nel frattempo intanto farvi vedere che amata ne abbiamo carne ne abbiamo si i diamanti li abbiamo messi giù siamo salvi i lapislazioni chi se ne frega io direi di andare dritto lì e dopo il punto di vista alla montagna poi mi voglio provare a fare anche una roba più avanti che stavo progettando volevo sapere anche voi in caso scrivetelo nei commenti qua sotto se era possibile se io tipo la sopra metto della lava che scende secchi che fanno la montagna di lava e poi ci butto l'acqua partendo da un blocco di roccia dovrebbe formarsi ossidiana quindi dovrei avere un monte di ossidiana infinito poche parole dovrebbe allora assi mi sono anche fatto la farm di polli è una figata come fai a attirare un pollo? il pollo lo attira uh quante uova quante uova quanti polli come lo attira con i semini col grano i semi di grano ah hai una zanzara che gira per la stanza e rompe le balli per venire in griglia se ne spacchi la roba con la spada delle diamante è ovvio che la si consuma altro carbone raga cioè quanto carbone poccoti siamo straricchi raga altro che pietre qua ci facevano carbone come se non ci fossero domani questo mondo lo chiameremo il carbone ardente questo mondo il monte del carbone ardente raga nome fighissimo abbiamo trovato il nome per il monte raga fighissimo spacca bestia allora eh abbiamo preso un po' di carbone prendiamo altro carbone che devo farmi le torce perchè poi ho trovato forse un dojo e volevo esplorarlo sapete com'è quando si trova i doji dentro ci possono essere i portali i portali dell'ender bene i portali dell'ender lo stiamo ancora cercando e nessun risultato no hai trovato qualcosa no non ho ancora trovato niente anzi non l'ho ancora cercato però ho trovato veramente tanto tanto carbone tanto carbone come un indegno guardate qua quanto carbone veramente tantissimo e poi abbiamo anche il nostro guardate lì la nostra fonte di lava beh si può dire che potevo pensarci prima ad entrare in questo posto beh intanto ho trovato un ghiacciolo alla menta un ghiacciolo alla menta abbiamo abbiamo trovato anche il monte del ghiacciolo alla menta ed è questo quello che ci darà la forza intanto sto venendo notte ma ho trovato sai che ho trovato il titolo per questo episodio? quale? alla cerca del monte carbone perchè guarda quanto cazzo di carbone c'è la la qua la qua la ovunque tutta la piera che taglia da cosa e tutte le torse che vado a fare per esplorare il dojo presunto dojo trovato dov'è il dojo? è in mezzo al mare bene io direi mettete ghiacciolo la mente aspettate un attimo che vorrei devo trovare un modo di salvarmi non ho più pallida idea di come fare ho perso l'orientamento no se il sole tramonta di la quella è la montagna devo tirar giù quindi si va di la mi scusi signore salve venga un po' qua venga qua aspetti no venga qua aspetti aspetti un attimo vuole mi abbiarla guardate che bello che è il nostro amico buonasera tac ebbene si abbiamo un amico zombie ah vado a retro hai visto che ha fatto l'attacco tipo si vado a retro cuccia se no ti apro un varco nel tetto eh ecco ok e abbiamo catturato il nostro zombie che ho già dimenticato il nome frank frank è giusto che poi una cosa mi stavo chiedendo se chissà se si possono nominare con le targhette prova non ho neanche ancora una targhetta cioè non ho più targhette però se si può nominare proveremo a dargli i nomi è sparito è evaso è morto come non è morto è morto vabbè ne cattureremo intanto spariranno tutti perchè eh tutta la terra già avevo messo eh ce ne prendiamo un altro però è la fattoria per il cavallo bellissimo quindi ci mettiamo qua sul nostro bellissimo letto qua guardate che fighi che siamo tutto in diamante ormai esaurito perchè ormai è esaurito tutto come vedete cazzo è esaurito sul serio bene e quindi vi saluto in questo episodio bella a tutti saluto elettrizzate ciao grazie a tutti